Va bene, ecco, quello che mi preme, io devo dare retta a Riccardo Porco Dince perché delle volte mi voglio staccata a certe situazioni e però ci vado dentro perché poi le vivo, le vivo da vicino, mi piace questo, no? C'è un popolo, chi si definisce tifoso della Roma, romanista, giallorosso, tutte le belle parole fate veramente schifo e lo sapete perché? Perché rompete i coglioni, scusate il termine, rompete i coglioni dalla mattina alla sera quando la Roma perde, gioca, ma lo so, c'ho ragione io, vedi questo non ci capisce niente, quello deve andare di qua, quello di là la pallotta si mette i sordi in tasca, quello è l'infame, quello non può giocare, non è all'altezza, ma che stiamo a fare? Non ci capita niente, a destra e a sinistra, la Roma che vince, che vince una partita, vince un derby vince, che ti dà soddisfazione, prendetela adesso, non dico che è cambiata, ma prendetela questa vittoria non si godono manco questa, quindi sono infelici quando la Roma, per un discorso personale, quando la Roma va male e sono infelici quando la Roma vince, ma ve rendete conto come state? Sono infelici, dai Ma ve rendete conto come state? Ma ve rendete conto come state? Ma di che stiamo a parlare? Non ci servite, non ci serve sta gente, non ci serve, ci si può confrontare, ci si può discutere anche con idee diverse, ma non fate gli arroganti e presuntosi, abbassate la cresta e fatele meno pugnette come diceva mia madre